Un saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla prima puntata dell'anno di Capitanate Sport Magazine, il primo TG sportivo su tutto lo sport della nostra terra ad eccezione del calcio. Siamo qui sempre su un mitico channel e per questo ringraziamo Biagio Porricelli per questa importante collaborazione. Siccome gli argomenti da trattare sono davvero tanti entriamo subito nel vivo del TG sportivo parlando di pallavolo come nostro consueto. Pertanto andiamo in Serie B nazionale Girone G, purtroppo dobbiamo parlare della sconfitta esterna della Ecolav Udas Volley Cerignola che appunto perde per 3-7 a 0 a Sorrento contro lo Snav Folgare Massa. Peccato per la formazione cerignolana che comunque rimane in classifica in ottima posizione appunto a centro classifica, ottavo posto con 15 punti. Scendiamo di categoria Serie C Girone A. L'Enrico Tecno Master Beats vince e convince in casa contro la Sintec Volley Cassano asfaltata per 3-7 a 0 e questo frutta il primo posto in classifica con 21 punti dopo 8 partite giocate. Seguita a ruota dalla DS Group Lucera di Giovanni Furno che vince per 3-7 a 1 in trasferta a Ruffano contro Toma Carburanti Ruffano, secondo posto a 20 punti ma con 9 partite giocate. Scendiamo appunto in classifica e dobbiamo parlare della sconfitta dell'Unipolsai Lucera che perde in trasferta, perdonatemi, a Martina contro l'Epicasa Volley Martina. Non ho posto appunto a 8 punti. Parliamo ora di pallavolo femminile con le due nostre compagini impegnate in B1 Girone D che perdono entrambe per 3-7 a 1 con formazioni lecesi. Appunto la BCC SGR Volley Manfredonia perde 3-7 a 1 a Maglie contro la Nissa Volley Maglie Lecce e invece la Di Lillo Libera Virtus Cerignola perde contro la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano per 3-7 a 1. Peccato per le ragazze cerignorane che comunque avevano portato a casa il primo set poi subiscono il ritorno avversario. Scendiamo di categoria B2 Girone I. La pallavolo Cerignola perde per 3-7 a 2 a Modica contro la Pro Volley Team Modica. Peccato per le Pantere Fucsia che avevano vinto i primi due set poi subiscono anche loro la rimonta e perdono il tiebreak per 15-11. Scendiamo di categoria Serie D Girone A. La SVG Energia Volley Lucera vince 3-7 a 0 contro la prima donna Volley Bari. Salgono al quinto posto a 20 punti. Mentre la Foggia Volley come vedete dalle immagini vince per 3-7 a 1 contro pallavolo Modugno e questo fa sì che le ragazze foggiane salgano al terzo posto in solitaria con 23 punti. Complimenti alle ragazze allenate da Valeria Di Mauro. Le altre due compagini foggiane, la Farmacia Fares Lucera e l'Olimpia Ortanova appunto sono impegnate nel derby, comunque riposano e quindi nulla di fatto. Cambiamo sport, parliamo di pallacanestro maschile. In Serie B Girone C dobbiamo registrare, e questo fa davvero notizia, la prima sconfitta purtroppo per l'Allianz Pazienzo Sansevero. Primo o poi doveva capitare e perdono in trasferta Nardò per 78-77. Dopo 15 vittorie, sottolineiamo questo dato, matura la prima sconfitta ma in classifica c'è ampio margine visto che i ragazzi sono saldamente primi a 30 punti e la seconda è a 20 punti, quindi 10 punti in classifica sono un tesoretto non indifferente. Invece la Castellana Udas Cerignola perde anch'essa in casa contro Globo Campli per 67-81. I ragazzi di coach Marinelli sono nelle parti un po' bassine in classifica a 10 punti. Cambiamo categoria, appunto Serie C, Silver, Girone A. La Silac Manfredonia perde purtroppo ancora una volta a Corato per 80-63, mentre dobbiamo registrare la vittoria importantissima della Sunshine Vieste contro Murgia Santeramo, che insomma, seppur fanarino di coda, è comunque un'importantissima vittoria dei ragazzi di coach De Santis che appunto si risollevano in classifica salendo a 12 punti. Nel Girone, o meglio in Serie D, Girone A, risultati agrodolci in quanto il Cus Foggia perde in casa contro la Dai Optical Molfetta per 52-80, mentre la Diamond Foggia è Corsara a Bari contro la Ginnastica Angiulli per 63-50 e questo insomma fa sì che i ragazzi foggiani risalgano la classifica a 10 punti. In promozione Girone A, rapida carregata di risultati, con Barletta Basket batte in casa Sveva Lucera per 53-51, ma questo diciamo non inficia sulla classifica in quanto i ragazzi rucelini sono comunque saldamente primi a 16 punti, mentre la Sincronia Virtus Foggia perde in casa contro New Basket Barletta per 52-72, anch'essi comunque sono in ottima classifica a terzo posto a 12 punti. Basket Lucera e San Giovanni Frassati e San Giovanni Rotondo giocano oggi alle 18.30. Per quanto riguarda la classifica i lucerini sono a 10 punti, mentre la squadra di Radeglia di San Giovanni Rotondo purtroppo sono ultimi a 2 punti. Vogliamo sottolineare per quanto riguarda il basket, o meglio il mini basket, la grande festa tentasi a Trani, appunto durante la quinta edizione del torneo della Befana dove, diciamo, oltre ai padroni di casa della Fortitudo Trani. C'erano anche i nostri ragazzi della Fenice Basket Volley, i ragazzini della Margherita Sport e Vita, Molfetta Ballers e Lione Basket Biceglie. Davvero una bellissima giornata di sport per questi ragazzini. Complimenti, insomma, alla mattatrice di sempre, Marisa Bizzarro e coach Lamacchia, insomma, tutto lo staff dell'associazione. Cambiando sport vogliamo ricordare che il rugby e la palla a mano sono ancora in ferie e, diciamo, vogliamo sottolineare invece una bellissima notizia di baseball. Grande soddisfazione in città, appunto, perché Foggia è stata designata luogo in cui Andrea Marcon, presidente FIBS, incontrerà le associazioni sportive pugliesi. Ricordiamo che la Fovea Baseball, unica associazione di baseball in tutta capitanata, ha partecipato al torneo federale di Serie C ed è stata impegnata nei vari tornei e campionati Under 12, Under 15 e Under 18. Complimenti alla squadra del presidente Giovanni Vitrani, insomma, complimenti anche ai fratelli Strippoli e a tutto il direttivo dell'associazione. Prima di salutarci vogliamo ricordare che chiunque voglia inviare notizie, immagini, video di sport, lo può fare tranquillamente alla mail info-capitanatesport.it. Ricordiamo, appunto, tutto lo sport della nostra terra ad eccezione del calcio. Una voce importante, soprattutto per chi dice che lo sport, escluso il calcio, sia sport minore. Noi invece dimostriamo esattamente il contrario. Ora vogliamo pubblicare il video della cura della ginnastica ritmica luceria. Ancora una volta lo sport è promozione del territorio. Gustatevi queste immagini perché sono davvero davvero belle e complimenti alla storica insegnante di sempre Antonietta De Sio e a tutto il suo staff. Ora il video è ancora un grandissimo saluto e colgo l'occasione per fare un augurio di buon inizio anno, un buon 2018, un buon 2018 sportivo a tutti. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.